Si chiama Ragus, è un giovane orango maschio che si è applicato a delle foglie masticate di una pianta che ha delle proprietà antibatteriche ma anche antinfiammatorie. Pensate su una ferita che aveva al volto. Grazie a questo medicamento l'orango si è trovato alla ferita richiusa. Pensate che era la prima osservazione documentata sull'uso di erbe ufficinari da parte degli animali. Un vero e proprio caso di automedicazione in piena regola, la pianta che si chiama anche Acar Kuning, viene utilizzata nella medicina regionale per care delle molecole come i furanoditerpenoidi che hanno degli effetti antipiretici ma anche antibatterici. Per questo motivo il comportamento di questo rango va a confermare per la prima volta un uso più che consapevole ma anche efficiente di un autotrattamento medico. Insomma è un medicamento autonomo che una scemia di un rango ha applicato su se stesso. E parliamo di un animale, non di un essere umano, che in teoria non dovrebbe avere l'intelligenza, ma in questo caso secondo me l'intelligenza incostui in questo animale, cioè eccomi. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, vedete di YouTube, iscrivetevi, sietevi al commentario e una buona giornata a tutti.